Sì, abbiamo fatto un test Vuoi fare ciak? C'è nel ciak? Di sopra Ah cacchio, a cosa serve? Io sto filmando con gli occhiali da sole Sì, si è piccolo Questo qua, questo pippolotto qua Ma dentro nel pippolotto di là Nel culo Nel culo Vorrei trovare, perché l'altro giorno ho provato a metterlo Ma non è stato il migliore degli approcci Metterlo tutto intero No? Sono entrato come un verme Ma io... Quindi vorrei tentare un altro approccio Che è A pezzi è tutto sommato abbastanza facile Solo che Perché Ho dovuto toglierli Non so se ci mancano delle cose Questo funziona Non funziona bene Ah no, devi venervi qua Adesso siamo scollegati da tutto Ok Faccio un giro Come la modella Sì Il balletto che ti ho insegnato? Qual è? Quello così Riesco anche a fare tipo questo Che è un movimento noioso Con queste cose di solito Ma è stato in ginocchio? Sparare fuoco? Non ancora Vediamo se stavolta riesco a attaccarmi da solo Ecco qua Vediamo se funziona tutto Fai vedere un po' E anche questo Fa costringimento Ancora? Molto più rigido Proviamo il peso a 10 kg Poi ci ho da caricarmi altri volendo Adesso si che fa la differenza Ho distruito io Che dovrebbe fare? Ah Eh Lo tiene da solo Ecco qua È fatto male? No no Non è stato quello No Beh la carico solo lui però Non è Io non posso sparciarmi Porca è scoppiato come quello Davvero? Sì Ah ecco qua Questo tubo qua No no Qualcosa doveva salutare Ma sei solo pezzo? Sì sì Niente di tragico Guarda Attenzione Tanti kg Però no Funziona adesso Ce la fa? Questo sopra che non si fa Ci abbiamo ancora un po' da lavorare Vai Dici per considerazione Ci abbiamo da lavorare Questo si è rotto il tubo Questo si è rotto il muscolo Oh Riesci a fare un applauso con questo schermo? Eh c'è un po' queste cose in mezzo Però È un reperto Una pittura rupestre Di grotte Non lo so come ci si inquadra la faccia Era così Non mi faccio i selfie Madonna Ecco qui Ecco qui Ci abbiamo ancora un po' da lavorare Insomma non la più leggera dell'esperienza Però bene Complimenti Questo qua si mette qua Poi la bombola si attacca qua di lato E le decolla È un'incorporante però E l'ha messa a punto? Ecco qui Ah perfetto Fammi vedere scusami Perfetto adesso si che è a posto Eccoci qui Il nostro posto più amato grazie Non vieni Ecco qui Ecco qui Ecco qui